Il progetto nasce come risposta al finale di un altro lavoro che avevo iniziato e che poi era finito nell'agosto dell'anno scorso, nel 2018, che era L'amore è una cosa seria che è un docufilm omiografico. Perché se no ci troppa differenza tra la faccia e il... La storia è nata molto tempo fa, è qualcosa di molto... che viene da molto lontano. Anche lui aveva delle idee che si sono andate a incrociare, diciamo così, con quella che era la mia volontà di raccontare sì una storia, se vogliamo, un po' oscura, quindi con la tendenza all'horror, come voleva lui insomma realizzare qualcosa di questo genere, però intrecciandola con qualcosa di molto più profondo. E quindi sono andata a scavare nel mio passato e ho pensato che il peggior mostro che si potesse portare sullo schermo era il mostro della depressione, però doveva essere qualche cosa che si sarebbe avvicinata a quel tempo, nel film, durante il film, durante lo svolgimento. E quindi tutte le brutte sensazioni che si possono avere, quindi il senso di smarrimento, il non sapere dove andare, il non avere via d'uscita e avere qualcosa che ti trattiene, qualcosa di così spaventoso, da qui non puoi scappare. Sì, pensavo, dai, non è sporco, le tracce di sangue le facciamo vedere già quando esci però, poi è troppo buio, è più di nuovo come per dire, come se sei di nuovo dentro, c'è incazzatura che sei tornata da dove è riuscita, non la, come dire, come prima che dovevi scappare. Sì. Ehi! Ehi! È partito tutto dal disegno, diciamo, quindi un po' dalle richieste del regista in base alla sceneggiatura e abbiamo cominciato a buttare delle bozze, fare schizzi e poi via via si è evoluta questa immagine di questa creatura, un po' senza occhi, un po' vicida, un po' particolare. Era partito tutto da una creatura un po' più aliena mentre è stata tutta trasformata in una sorta di alter ego, di personaggio più interiore. Ecco, l'argilla ha cominciato proprio la fase precisa di design e soprattutto di texture per raggiungere una realisticità maggiore poi dopo, durante lo stampaggio della maschera. Sì, c'è un po' di più. E' un po' così vero bellissimo. Hai più fiatto? Nado. Che fiatto. Papà, papà. ? ? ? ? ? Grazie a tutti. La difficoltà più grande secondo me è stata quella di dover correre, perché la premura in questi lavori è sempre quella che poi porta a fare un cattivo lavoro. Ero molto preoccupato per questo ed è una parte che poi c'è stata questa ripercussione, c'è stata in fase di montaggio, una parziale depressione proprio perché non ero convinto di quello che era stato fatto proprio per la premura. Poi invece devo dire che le cose sono migliorate, anche io ho trovato un po' più di equilibrio e siamo andati avanti con questo progetto. Un cambio, lo vediamo così, così perché è un frame. Simone, non entrare! Qua sopra è sicuro. Sopra proprio? Sì, perché io proprio me la sfrego qua così. Questo è sicuro. All'ultimo momento, prima delle riprese, si è rotto uno stampo e quindi abbiamo dovuto cercare una soluzione alternativa per creare le mani. Le mani le avevamo immaginate come un guanto con degli artigli particolarmente affilati e a causa di questo disguido ci siamo inventati delle unghie molto particolari e dopo con il trucco siamo riusciti a creare una mano che, secondo il mio parere, è venuta, ha reso molto meglio che l'idea iniziale. Per un'idea iniziale. Per il taglio delle vene, sempre partendo da un calco, abbiamo calcato un polso di donna, ovviamente il personaggio femminile dell'attrice. Da lì, sempre con plastiline e scultura, va ricreata proprio tutta la parte della pelle. Infatti il lavoro meticoloso è proprio creare la texture della pelle, soprattutto per dare un effetto realistico, visto che la ripresa è proprio zoomata da vicino, soprattutto nel momento del taglio. Da lì abbiamo realizzato una protesi, che poi è stata applicata sopra a un tubicino collegato a una pompetta, da cui abbiamo fatto sgorgare il sangue durante proprio la scena del taglio. Dopo è tutta una questione di momenti, di giocare sui momenti. l'addetto agli effetti speciali deve essere attento, deve essere bravo a mandare il sangue per creare un effetto realistico. Sali un attimo su con la lametta così non ti vedo la mano, ok, e metti la giù quando te lo dico io. Facciamo metacinema. Non tutto. Vero tipo sta cosa come la sugnero tutta la notte, la faccio la giù. Eri già morto, eri già morto Roberto, tu hai fatto tipo nio. Eri già morto. Fa' me la vedere. La villa, la casa, è la malattia in sé che la trattiene così come il mostro, la figura del mostro che è la malattia stessa che appunto dice resta qui. Angelo, sei sempre in questo che hai bisogno di allineare. Io te lo rifaccio e te lo faccio. No, perché quando corri, quando ti fermi, non lo so se ce la faccio senza scarte. Allora, per rendere... Ma piangere. Allora, come vinciamo? Come vinciamo? Come vinciamo? Secondo me salviamo, capo e cavoli, se mi si intravede a malapena. Allora, quando... Perfetto, allora fai così. Quando è... Così e così. Da questo. Sì. No, aspetta un attimo. No, questa mi piace di più. Ma era la sua ultima per adesso. No, questa qua, questa qua. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Sfigata. Bravo. Ok, apriamo. Un'altra cosa, un aneddoto divertente, divertente da parte mia. Il mio collega rideva un po' meno, sinceramente. No, è stato il fatto di ricostruire un'altezza molto esagerata di questo mostro. Allora, una volta che hai imparato, cioè, due giorni qua, hai imparato ad andarci su. Sì, sì, sì. Posso andare proprio a fare i numeri. Dietro di lui c'era sempre una persona che lo doveva sorreggere e quindi si doveva mimetizzare dietro di lui, ma abbiamo scelto il Marco Bazzocchi che è... Abbiamo una stranza in carne, quindi facevamo fatica a stringere il Marco. Il problema è che tu dovrai andare verso la campagna. Quindi aspetta, aspetta, aspetta. No, no, aspetta, aspetta che ti devo mettere prima la masca. Certo, te la metti lì in campagna. Dove dobbiamo dire? No, ma tu non ci vedi. No, no. Dove ti andando tu? Che semplici devo, eh? La micella della sposa. Eh, se no, si al verso il masto è questo. Si chiudono, si chiudono. Si chiudono. Bazz, un passo... Mezzo passo a destra. Mezzo passo a destra. Fermo così. Chiudi le gambe, che hai abitudine di stare con le gambe aperte. Chiudi la camicia. Chiudi la camicia. Chiudi la camicia. Aspetta. Mezzo passettino a destra. Bazz, mezzo. Basta. Fermo così. Frizzati così. Mostro... Stai dritto. Non cambierei niente di questo lavoro. Questo lavoro nasce così e muore così ed è giusto che sia. che sia questo. Vieni. 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 Vieni.